L'Associazione Sicura di Gallarate segue i ragazzi sospesi all'Istituto Superiore Ponti e segue i ragazzi in un percorso con professionisti come psicologi e altri operatori per aiutarli e ha seguito anche alcuni dei ragazzi che hanno compiuto degli atti gravi anche come nell'ultimo episodio dei quattro ragazzi che hanno assalito, aggredito un coetaneo davanti alla scuola. È un fenomeno che purtroppo colpisce tutti i ragazzi che frequentano le scuole, non è un discorso solo l'Istituto Ponti. Ogni giorno accogliamo questi ragazzi proprio perché capiamo il disagio che hanno e anche le famiglie perché non si può seguire un ragazzo senza prendere in carico la famiglia. Quando si aprono riusciamo a intravedere grande difficoltà nella gestione della vita di tutti i giorni. Vivono veramente in circostanze sia a casa ma anche al di fuori che credo siano difficili un po' per tutti da riuscire a superare e da gestire. Comportamenti che nel gruppo dei pari vengono considerati normali e quindi tra di loro assolutamente accettati come l'uscire di casa con un'arma piuttosto che avere agiti aggressivi nei confronti di persone della loro età o anche di adulti in realtà sono comportamenti che rappresentano dei veri e propri reati. Queste volte hanno alle loro spalle veramente situazioni di disagio ma soprattutto di violenza. Noi siamo qua proprio per raccoglierli e per poterli accompagnare. E' questo che bisogna fare a questi ragazzi è ascoltarli.